E bentornati a tutti in un nuovo video di Verone, oggi sono qua per portarvi un video riguardante le migliori classi per quanto riguarda sia Shika sia il Mazzara nella Season 2 Reloaded Quindi andiamo a vedere un pochino quali sono le armi che sono uscite dal meta, quali sono entrati, quali sono le armi nuove invece che hanno un ottimo set e sono molto forti Andremo a vedere un po' tutto questo all'interno di questo video, vi chiedo un mi piace e un commento per supportare la serie, molto molto importante Andiamo a vedere subito la prima classe Partiamo dal meta classico, quello che viene utilizzato di più in assoluto, l'attuale ISO, l'assalto più utilizzato Attualmente le mitragliettici leggere sono state nerfate affinché entrasse in meta qualche assalto Adesso si può utilizzare sia i mitraglioni pesanti su Al Mazzara, sia le assalti e lo stessa cosa ovviamente anche su Ashika Island Nel suo Ashika Island in genere si preferisce utilizzare gli assalti perché sono un pochino più veloci essendo comunque un gameplay un po' più rapido rispetto ad Al Mazzara Però adesso si possono usare anche gli assalti su Al Mazzara rispetto a prima che dovevi usare la RPK per forza oppure dovevi utilizzare alternative come RAL E Saki che sono state tutte nerfate in modo tale da renderli un po' più bilanciati Cioè adesso la differenza tra un assalto come questo e un mitraglione è che i mitraglioni si hanno più danno e magari tengono di più la lunga distanza Però sono molto lenti e macchinosi Prima oltre a essere più forti e non erano neanche così tanti macchinosi tipo la RPK che era sempre fortissimo ed era veloce quanto un assalto Aveva però le stesse caratteristiche di un mitraglione Quando andiamo a vedere l'ISO per quanto riguarda ovviamente i miei settings io vi allaccio sempre a WorldZoneHub dove metto invece le mie calibrazioni Le trovate sempre il link in descrizione qua trovate tutte le mie build aggiornate giorno per giorno Quindi se ne metto nuove, se ne faccio nuove, se le aggiorno e così via Questa è la mia classe per quanto riguarda l'ISO con la Saking quindi questa più adatta a Sheik Island perché è un pochino più rapida, un pochino più veloce Mentre qua ho le F-Tag Creeper, F-Tag Creeper ovviamente configurato solo per mantenere in culo Per Almazra, questa la uso soprattutto per i tornei perché bisogna essere il più preciso possibile nei tornei E si è molto spesso in fase di mira e poche volte si pusha dritti per dritti con l'assalto Quindi diciamo è più importante essere precisi su Almazra piuttosto che essere anche un po' più rapidi come su Ashika Quindi preferisco le F-Tag Creeper Per chi è un po' diciamo meno pratico con la mira delle armi usate le F-Tag Creeper Se no usate la Saking molto molto valida, poco rinculo ed è soprattutto molto più veloce Andiamo a vedere la secondaria che è la Latchman Sub Ovviamente abbiamo utilizzato i pacchetti specialità con risposta eccessiva di corsa, mani veloci e massima allerta Disposta eccessiva per avere la doppia arma quindi un assalto e la mitraglietta Di corsa per aumentare lo scatto tattico, mani veloci per ricaricare e per cambiare le armi più veloci E massima allerta perché ci dà le informazioni sugli avversari se ci stanno guardando in quel momento Sicuramente il perk più forte da utilizzare sulla mappa grande Sulla mappa piccola si può utilizzare anche Recupera Rapido che è molto molto cobbido O comunque sulla mappa grande anche Fantasma ci può stare Per il resto i soliti perk, rifornimento è sempre molto valido Artificiere e tracciante sono molto comodi Insomma sapete quali sono, sono sempre i soliti Appunto Latchman Sub Latchman Sub è stata ritoccata, ribilanciata È stata potenziata leggermente la Falcon, la canna Falcon Infatti è da utilizzare e da preferire al sottocanna E è stato anche buffata le munizioni dell'extra pressione Quindi adesso non danno più penalità per quanto riguarda il danno dalle lunghe distanze Quindi questa arma è stata ribilanciata, è stata resa un po' più lenta rispetto a prima Ma è stata tra virgolette potenziata perché gli hanno potenziato la canna e potenziato le munizioni extra pressione Quindi in realtà quest'arma ha subito proprio un bilanciamento In modo tale che fosse un po' più lenta In modo tale da essere più simile alle altre mitragliette Però ha ancora il danno più, migliore in assoluto tra tutte le mitragliette Quindi questa la porta a essere l'arma ancora più forte tra tutte le mitragliette Andiamo a vedere le tattiche Sempre le solite fumogene, stordenti, bla 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 Le solite meta diciamo delle retali Anche col terra da lancio, semtex e soprattutto sulla mappa grande le cariche perforanti Tra l'altro c'è stata una modifica alle granate a frammentazioni Che sono sempre molto forti Però adesso anziché esplodere dopo 5 secondi esplodono dopo 2 secondi Quindi un cambiamento un po' particolare Io ci sono morto l'altro giorno perché stavo tenendo la granata in mano così E mi è scoppiata in mano perché invece 5 secondi durano 2 secondi Andiamo avanti con la Sakin La Sakin è l'arma migliore diciamo per un po' ovviamente un tronco Perché con un'armona da 100 colpi faticosissima da usare E questa diciamo da lunga distanza è l'arma più forte e più costante Perché ha 100 colpi, perché ha pochissimo rinculo, è fortissima Vi faccio vedere subito le calibrazioni sia per quanto riguarda la Hatchman Sub Che è questa appunto alla MP5 Vi faccio vedere al volo le calibrazioni se ve le volete salvare E ovviamente anche la Sakin I mirini, a livello di mirini l'AMOP è sempre il miglior mirino Sempre da configurarlo vicino Sia sull'ISO sia sulla Sakin si può eventualmente cambiare il mirino Con lo Schrager 3,4 Che è il mirino che somiglia di più al VLK classico di Modern Warfare 1 Ma non è il VLK, il VLK su questo gioco è un 4x Mentre lo Schrager è un 3,4 quindi molto più preciso rispetto al VLK Andiamo a vedere la secondaria che è l'MP7 invece in questo caso MP7 molto molto forte, è stato leggermente buffato di recente e gli hanno abbassato il time to kill in modo tale da essere molto simile a quello della Vaznef Anzi è inferiore il time to kill di quest'arma Quindi molto molto valida, molto molto forte Ve la consiglio È super mobile L'unica differenza rispetto magari a un MP5 e a una Vaznef È il mirino che è un po' più ingombrante Però questo mirino un pochino più ingombrante Cosa la rende? La rende un po' più veloce, un po' Un po' più precisa dalle medie distanze Essendo già con questo setto con poco di rinculo E dandovi una posizione perfetta per le medie distanze col mirino Però per le corte corte distanze è un po' scomoda Cosa che però viene un po' bilanciata dal fatto che quest'arma sparando senza mirare È molto molto forte, molto molto efficace Quindi una valida, valida, validissima arma Molto molto carina Usatela perché a me è piaciuto un sacco Soprattutto con un cecchino associata Oppure con semplicemente un mitraglione Perché diciamo vi fa anche una porzione di midranger di medie distanze Che magari con un mitraglione fate fatica a coprire perché il mitraglione è un po' più lento Andiamo a vedere una classe invece interamente pensata per Ashik Island Dove abbiamo il Castoff 762 Castoff che in realtà ho usato anche sul BR Potete vedere tranquillamente un gameplay mio sul canale dove faccio 41 kill con quest'arma Questa è un'arma molto molto efficace Non ha un rinculo estremo Però diciamo rispetto all'ISO, rispetto alla Saki non è così tanto costante Però ha un danno estremo, allucinante Dalle medie distanze è folle E non è nemmeno troppo difficile da controllare E' difficile magari beccare un avversario che è in head glitch Quindi della quale si vede solo la testa Molto molto scomodo in quei casi lì Molto molto forte, vi faccio vedere al volo le calibrazioni In questo caso ha la lock grip precision 40 come sottocanna Che è un sottocanna e funziona bene Anche se c'è scritto che dà solo statistiche per quanto riguarda sparare senza mirare In realtà dà anche, diciamo, delle precisioni Controlla anche bene il rinculo Quindi molto molto forte questo sottocanna per quanto riguarda quest'arma Andiamo a vedere la Budsnef Che è stata shadow nerfata Ciò significa che è stata nerfata Sono state diminuite le statistiche Senza dirlo ufficialmente Quindi un po' una bastardata da parte di Raven Software E quest'arma è sempre molto forte Però inferiore all'MP7 e inferiore all'MP5 soprattutto Quindi molto molto forte Vi faccio vedere il set sempre di quest'arma Il laser ovviamente è configurato in modo tale che vada più velocemente possibile in mira E molto molto forte Usatela, super carina soprattutto E' una delle armi più usate in competitive Perché nel competitive nel multiplayer è l'arma più forte Su Warzone non ha la stessa efficacia rispetto all'MP5 Quindi comunque sempre una validissima arma Andiamo avanti con invece le armi nerfate Che sono l'RPK e il KV Broadsight Entrambe due armi ancora molto forti L'RPK mantiene comunque un rinculo abbastanza basso Gli hanno aumentato diciamo quel rinculo orizzontale Che ti fa smirare un pochino E l'hanno anche rallentata rendendolo un po' più un mitraglione Però è sempre molto valida Soprattutto per quanto riguarda Sheik Island Perché è una via di mezzo Sempre quella via di mezzo tra assalto e mitraglietta Tra assalto e mitragliettrice leggera Che funziona alla fine Quindi molto molto forte Vi faccio vedere al volo al set con la calibrazione Sempre molto molto valida A differenza degli altri code Qua le armi quando vengono nerfate Non vengono completamente distrutte Restano comunque utilizzabili Come anche il KV Broadsight Che è stato nerfato Vi consiglio questo set Oppure con i 12 colpi E le munizioni esplosive Quindi molto molto forte ancora il Broadsight Non forte quanto prima Non sbroccato a livelli estremi Con una mitraglietta Si può finalmente contrastare quest'arma Però molto molto valida Ci sta un sacco Andiamo avanti con invece Una classe contenente due armi quasi inedite Una è il Tempo Storrent Che è nuova letteralmente Quindi nuova e di zecca Con il set che vi consiglio Che vi permetterà di avere un'arma Con poco di rinculo Che ha il Time to Kill Ovvero il tempo in cui uccidete l'avversario Più basso del gioco da media distanza È clamorosa Perché letteralmente Se prendete un colpo in testa Verso l'avversario E lo colpite di nuovo In qualsiasi parte del corpo Praticamente lo butterete giù in due colpi Quindi allucinante Butta più giù Butta più velocemente Delle avversari Butta più velocemente Gli avversari a terra Rispetto all'iso Il problema è che non ha la stessa costanza Perché non è un automatico Ma è un semi-automatico Infatti Quest'arma Oltre a essere appunto Un rifle Quindi un fucile tattico Consuma anche munizioni da cecchino Quindi è un po' scomoda Perché vi ritroverete sempre con pochi colpi Ne ha 20 nel caricatore Anche se magari ne potete aggiungere di più Però dovete magari far rincolare di più l'arma Se aggiungete un caricatore Quindi insomma Non è un'arma che conviene molto Però Il Tempus Torrent Può essere una validissima alternativa Rispetto ai soliti assalti Che comunque hanno un po' stufato Se neanche i soliti mitraglioni P90 Che ha Diciamo È l'arma più veloce in assoluto In termini di mobilità Molto molto interessante Può essere carina da utilizzare Non è il massimo Devo essere onesto Perché il danno manca Però A livello di mobilità Super carina 50 colpi Ci sta un botto Andiamo avanti invece con la classe Sniper Quindi da lunga distanza con il cecchino Abbiamo il Signal 50 Domina da sempre Diciamo la scena del cecchino Perché è l'unico cecchino Che vi permette di colpire l'avversario Fare tutte le placche Ricolpirlo di nuovo E buttarlo a terra E inoltre Vi permette anche Di buttarlo giù con un colpo Se questo ha subito almeno un danno Quindi molto molto forte Abbiamo due set in realtà Questo è quello da lunga portata E poi dopo vedremo anche Il set un po' più aggressivo Questa invece è la K74U L'abbiamo già vista Questa è la miglior build Secondo me per quanto riguarda Le medie corte distanze Quindi da supporto a un cecchino Da Sniper Support Molto molto forte La trovate sempre qua La sua calibrazione Molto molto valida E una delle armi più forti Tra gli assalti Misti Mitraglietta Però non è Diciamo L'arma più utilizzata Perché si preferisce usare Assalto e mitraglietta Piuttosto che Assalto e cecchino Quindi un'arma Finita nel dimenticatoio Anche se è fortissima Ed è devastante Soprattutto quando Raccolta da terra Allo start TAC-V Ancora molto forte Nonostante il nerf Molto molto interessante Come arma Dà veramente Pochissimi colpi All'avversario È Stra 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 Difficile da usare Perché ha un rinculo Veramente Sostanzioso Però Time to kill Scandaloso Cioè l'arma Che da medio Butta giù Butta giù Gli avversari Nel più breve Il tempo possibile Prima del nerf Prima dell'uscita Dell'iso E prima del nerf Di quest'arma Questa era l'arma Più utilizzata In competitivo Quindi Molto Molto Forte Sua shika Soprattutto Sarà Ancora dominante Secondo me Molto molto forte Insieme a Magari Il cast of Set S2 Fennec Che invece è stata Nerfata Non è più così Forte Però Sempre una mitraglietta Molto valida Se ce l'avete livellata Mantenetela Perché può essere Comoda Rispetto Se non avete Ancora livellato Le altre armi Questo è sempre il solito set Funziona perfettamente Ci sta ancora Non da considerarsi Meta Però Ogni tanto Magari Per farsi una partita Con comunque La Fennec Che è sempre stata Una bellissima arma Ci sta Ci sta Assolutamente Ci sta sempre Andiamo avanti Con Le ultime classi Dove abbiamo Il RAL Che è stato Purtroppo nerfato Era Diciamo Il candidato numero uno A diventare il meta Dopo il Classico RPK Perché era una via di mezzo Però Soprattutto aveva un danno Ancora più basso Della RPK Però è stato nerfato E la Sakina Adesso è un pochino Più comoda Ad usare Però resta sempre Un'opzione molto valida Però più difficile Ad utilizzare rispetto a prima Perché questa rincula Un po' di più Rispetto a prima Quindi meno Costanza Dalla sua parte Nonostante sia comunque Un'arma che Uccide pochissimi colpi E sia ancora Molto molto forte Questo è il set Ovviamente Qui avete il minino Mini tac Ma potete usare Tranquillamente L'AMOP Come al solito Qua il solito MP7 Ce l'ho messo Come secondare Perché appunto Lo trovo la mitraglietta Più forte Da mettere insieme A un eventuale LMG Quindi un eventuale Vitraglione E poi andiamo invece A vedere la classe Con il tac Il tac Che è Una delle assalti Secondo me Più comodi Da usare Perché ha pochissimo Rinculo È veramente bello Da usare Perché è Con la sua ottica Standard Bellissimo Cioè È proprio allucinante Da utilizzare È l'arma più utilizzata In competitivo Nel multiplayer Perché è appunto L'assalto meta In quel Nel circuito competitivo Della CDL E è bellissimo È proprio bello Da usare È un bel feeling Ha la doppia scelta Tra 40 colpi E 60 Che vi permette Comunque Magari a un player Meno esperto Di avere più colpi Nel caricatore Nonostante l'arma Sia più lenta È comunque Un time to kill Molto basso Soprattutto se utilizzate Le alte velocità Non utilizzo un minino Ovvero Ovvero L'Amo P Perché dovrei togliere Le alte velocità E gli aumenterebbe Il time to kill E questo Andrebbe diciamo A non Essere forte Quanto magari A livello di danno Quanto un ISO Quindi questa cosa Mi farebbe girare le scatole Preferisco usare Gli alte velocità E avere un'arma Con il Mirino Classico Metallico Bella ad usare Che mi dà un bel feeling Piuttosto che usare Un clone dell'ISO Perché ovviamente Se ci metto là L'Amo P V4 Diventa un clone Di tutte le altre armi Cioè Quindi ha poco senso Usare La bellezza di quest'arma È il fatto che C'abbia un mirino così bello Perché non usarlo Insomma Poi andiamo a vedere La secondaria In questo caso Ho tolto appunto Le mitragliette Ho lasciato la base disc classica Base disc Molto molto forte È La pistola Più forte In questo momento Non è akimbo È singola E dà due colpi Letteralmente Se non l'avete mai provata E ce l'avete livellata Funziona Da morire Usatela subito Immediatamente Molto molto carina A tenere il loadout Se volete avere Il secondo pacchetto Di specialità Con magari A posto di Risposta eccessiva Squadra artificieri Oppure tracciante Quindi molto 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 forte Andiamo a vedere invece Lo sniper di Ashika Uno sniper un po' più Uno sniper un po' più Aggressivo Sempre il nostro Signal 50 Però con una build Molto molto diversa Questa è Pensata più Alle medie distanze Per buttare Giù gli avversari Con un colpo Se hanno subito danno Oppure dargli due colpi E buttarli giù Comoda comoda Molto forte Usata anche sul BR Mi sono divertito Se non è carina Ci può stare Come novità Quando Fittorieranno Ovviamente C'è Chilo di San Patrizio Che è troppo forte Molto molto forte Andiamo a vedere invece La chimera Chimera che appunto Come dice il nome Un misto tra Mitraglietta e assalto Quindi diciamo Stesso ruolo Della K74U Stessa classe Grandi linee Stesso scopo Quindi molto molto forte Però è sempre Quella via di mezzo Che non è Né carne Né pesce Quindi si forte Si ottimo danno Si la media distanza La fa meglio Delle mitragliette Si la corta distanza La fa bene Quanto la mitraglietta Però non ha la stessa mobilità Quando corri Sei più lento Sei più macchinoso E nei fight Da close range Comunque le mitragliette Ti squagliano Perché sono più veloci Perché le avversarie Si muovono più velocemente Con quelle mitragliette E così via Quindi alla fine Resta quella Via di mezzo Che non è Non è buona Non è il massimo In nulla Cioè è buona in tutto Ma non è il massimo In nulla Quindi Sempre meglio Una mitraglietta Rispetto a queste armi qua Un bacione al Virone Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un mi piace Un commento E ovviamente Ricordatevi che siamo live Su Twitch Un bacione Ciao a tutti